Clamoroso al Cibali, si diceva negli ormai lontanissimi metropoli impianti anni 60. Clamoroso a Marlia, si potrebbe argomentare oggi, nel 2015, commentando le vicende del campionato di prima categoria giunto alla terza giornata. Quindi agli albori o giù di lì. Già perché al comunale di Marlia si consuma una delle grandi sorprese della domenica. Il capezzano pianore di Belluomini passa infatti nettamente 3-0 al termine di una partita dove la Folgor prima spreca e poi affonda. Clamoroso anche perché la squadra di Barsocchi, un punto in classifica, era e forse rimane una delle grandi favorite, anche se ne ho promossa. Il tutto nel contesto di una giornata in cui si segnalano il pirotecnico 3-3 di Coreglia Fornoli, la sconfitta del Piaefosciana-Monsummano, il blitz esterno del Gorfigliano di Antonio Nelli che acquisce la crisi del Porcari e l'altra vittoria in trasferta del Vorno che passa a Rontani sullo Sport in Bozzano. Se ne ricava una classifica che vede il capezzano agganciare al vertice la Butese a 7 punti, il Vorno sale al secondo posto e poi sgranate tutte le altre per una situazione piuttosto fluida, anche se d'esta sorpresa la posizione della Folgor appunto e l'ultimo posto a 0 punti del Porcari. Il menù di domenica prossima vedrà il capezzano ospitare il Coreglia di Davini, mentre la Butese ospiterà il Bozzano. Da seguire con particolare attenzione anche il doppio derby, Vorno-Folgor-Mardi e Piaefosciana-Porcari. Occhio infine a Diavoli Neri Gorfigliano che riceve il Montignoso e che non nasconde le proprie ambizioni.